Oggi andiamo a vedere un tablet economico, ovvero il Doji T20 Mini, disponibile già con coupon sconto integrato sulla pagina, di cui vi lascio il link in descrizione. È un tablet che comunque ha 9 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, quindi su questo frangente ha una buona scheda tecnica. Andiamo anche ad analizzare quello che è il display, ovviamente, e tutto il chipset di cui è dotato. Comunque ci sono dei motivi per cui è particolarmente economico, tuttavia l'esperienza di utilizzo appare fluida. Questa è la confezione che arriva, all'interno della confezione troviamo ovviamente il tablet, che andremo a vedere da vicino, e poi all'interno troviamo il manuale di istruzioni con la clip per la SIM, perché questo tablet può effettivamente ospitare fino a due SIM, con tecnologia specifica LTE, sistema ibrido dual SIM, e poi all'interno abbiamo una delle motivazioni per cui appunto il prezzo è contenuto, perché la ricarica è a 10 Watt, quindi il caricatore è un caricatore standard, e abbiamo un cavo USB-C, USB-A, che ovviamente ci serve per fare la ricarica. A parte questo, passiamo ovviamente al fulcro di questa recensione. Il tablet a sé stante, che è un 4 Factor molto interessante, che lo pone effettivamente in un ottimo range di prezzo. È già stato settato, vediamo che si abita rapidamente, rimuoviamo la pellicola protettiva, o meglio la parte di protezione della pellicola già pre-applicata sullo schermo, e a questo punto andremo quindi a ragionare sul display vero e proprio. Dunque, questo tablet ha a disposizione uno schermo IPS LCD con una luminosità comunque contenuta, 350 nits, con una buona visibilità all'effettivo, anche se ce lo portiamo in giro. Attenzione, perché comunque la presenza di un display IPS ci garantisce comunque una buona resa. Andiamo a fare il solito test, a fare la resa a video di quello che è ovviamente la ricerca classica sui video 4K che cerchiamo, e questa cosa mi aggancia anche relativamente all'HDR, che non è presente in questo caso, ma nello specifico al display. Sentendo l'audio vi dico che il display è da 9,4 pollici e ha una buona risoluzione. Parliamo comunque di un display da 1200x1920 pixel, quindi una parte full HD estesa. Andiamo ad ingrandire tutta la visuale e per avere un riferimento diretto anche della qualità e riproduzione dei colori. L'IPS, chi mi segue lo sa, è un tipo di display che riesce comunque ad avere una buona resa, soprattutto proprio per la parte dei colori che appaiono più naturali e anche più carichi. Effettivamente chi mi segue sa che preferisco questo tipo di visualizzazione. È un buon pannello all'effettivo, lo stiamo vedendo anche reso in camera, di buona qualità a fronte sempre del prezzo. Il prezzo va anche in funzione di quello che riguarda il chipset. Il chipset è un ISOC T606 che di fatto ha a disposizione una CPU octa-core. Il processo produttivo ha 12 nanometri, quindi non è l'ultimo processo produttivo. Ha comunque delle buone prestazioni, lo stiamo vedendo utilizzato in scenari di utilizzo abbastanza semplici per il momento. Ovviamente facciamo anche il test relativo a quello che riguarda la navigazione. Posso andare a cercare i tassi, non è il caso. Andiamo su Repubblica, come sempre, simulazione nell'ottica del giornale. E andiamo a vedere come ci carica direttamente in Chrome tutto il quotidiano. Di fatto il caricamento è buono, ci permette di vedere tutte le notizie in modo abbastanza rapido. Effettivamente la navigazione per questa fascia di prezzo comunque si comporta abbastanza bene. Clicco su un articolo a caso e con quel caricamento viene fatto. C'è qualche rileva e rallentamento, lo stiamo vedendo in tempo reale, ma nulla che possa andare a compromettere effettivamente tutta la navigazione. All'effettivo un'esperienza di utilizzo che rientra assolutamente nei canoni di utilizzo. Sotto abbiamo la barra di navigazione, possiamo poi gestire come vogliamo, come sempre, il multitasking. Possiamo tornare indietro, fare uno screenshot. Qui sotto, come vediamo, c'è il riferimento. Cliccato qui in basso e poi c'è il pulsante home specifico. Oltre 128 GB di memoria interna possiamo anche andare a espandere appunto la memoria con una microSD utilizzando uno degli slot relativo alle SIM. La fotocamera posteriore, in questo caso, va a gestire un sensore da 13 megapixel. Abbiamo anche un flash LED che permette di fare foto in condizioni di scassa illuminazione. Fotocamera frontale da 5 megapixel che registra anche i video che sono full HD fino a 60 frame nella parte posteriore. Comunque un comparto fotografico che permette di fare foto molto semplici, ovviamente, nulla di eclatante appunto perché il tablet non è pensato per quel tipo di utilizzo. Se ci serve fare qualche foto al volo verrà fatta. Allo stesso modo possiamo passare agli antoparlanti stereo. Abbiamo sentito qualcosa al volo direttamente sul video YouTube, cosa che comunque contribuisce ad una buona qualità di visione. Completa il comparto di connettività, il Wi-Fi di tipo AC, il Bluetooth 5.0 e di fatto il GPS GLONASS. Vado a citare anche la presenza della radio FM che è una rarità all'effettivo. Abbiamo porta USB-C nella parte inferiore per quanto riguarda la parte di connettività. E di fatto ragioniamo anche sulla presenza di questo jack da 3,5 mm per le cuffie, comunque in una posizione non esattamente comodissima, anche se comunque si può utilizzare. Ragioniamo sull'utilizzo di questo tablet. È particolarmente compatto e quello è il suo valore aggiunto. Possiamo portarlo con facilità ovunque ed è un form factor che vediamo anche un po' più di lato. Ad oggi sui nuovi modelli che escono abbiamo tanta compatibilità con spazi contenuti e ovviamente portabilità. Perché qui abbiamo 9,4 pollici, un tempo ovviamente con cornici ancora più marcati. Abbiamo uno tablet che avevano schemi da 7 pollici su queste dimensioni. Qui recuperiamo ovviamente un po' di spazio. Qual è l'utilizzo di questo tablet? Possiamo utilizzarlo come ebook reader, possiamo utilizzarlo per la visione di file multimediali, possiamo utilizzarlo per la visione di video. Abbiamo fatto un riferimento diretto ma possiamo anche utilizzare app informative come quelle classiche, nonché volendo anche come navigatore. Vediamo il test solito su Google Maps per il caricamento delle mappe anche un po' più pesanti a livello satellitare a fronte della connessione che comunque è di buon livello. Non abbiamo particolari problemi in termini di rendering e di qualità. Tablet che può essere utilizzato appunto per navigazione per un semplice motivo. Con un supporto anche abbastanza semplice da delle dimensioni che non sono troppo elevate si può tranquillamente utilizzare. Sopra un supporto. Accelerometro, giroscopio e compass a disposizione come sensoristica e chiude la batteria da 5000 mAh che ovviamente non è removibile e comunque confeziona anche un buon livello di autonomia a fronte del chipset, a fronte della risoluzione di display, a fronte anche dell'utilizzo che andiamo a fare. Questo prodotto è abbastanza recente, è uscito praticamente da meno di un mese e per il prezzo a cui si trova, appunto vi esorto a guardare i link in descrizione, con l'anesso coupon siamo poco sopra i 100 euro, nel momento in cui sto registrando appunto non andiamo troppo oltre questa cifra, trovare un tablet comunque con schermo IPS e con una fluidità bene o male gestibile non è assolutamente semplice. È un prodotto che va valutato se abbiamo un budget estremamente contenuto per un tablet perché effettivamente neanche con uno smartphone andiamo ad acquistare allo stesso prezzo qualcosa di effettivamente concorrenziale o comunque di quanto meno utilizzabile sul breve periodo. Di conseguenza il prezzo che Doji ha inserito effettivamente non è male. Il multitasking è gestito abbastanza bene, 4 GB di RAM che permettono comunque anche di passare da un app all'altra lo abbiamo visto in modo abbastanza fluido e riprendere la visione là dove l'avevamo lasciata. Visione o lettura o comunque interazione, che dir si voglia. È un tablet che dunque vi è sorto a valutare in descrizione, al di là dei link lascio anche qualche approfondimento troverete tutto pubblicato appunto sotto al video, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Come sempre lasciando un commento, per qualsiasi domanda anche sul profilo di Instagram di cui c'è il link in descrizione lasciando un like a questo video, iscrivendovi al canale per non perdervi i prossimi. A me non resta che salutarvi e noi ci vediamo al prossimo video.